Formazione sempre più nel caos. Sospeso dal TAR di Catania, il provvedimento di revoca dell'accreditamento nei confronti della Lumen, l'ente di formazione professionale coinvolto nello scandalo messinese. Secondo i giudici del Tribunale amministrativo, l'assessorata alla formazione aveva agito senza rispettare le normali procedure. L'ordinanza arriva in concomitanza con la decisione dell'assessore Nelly Scilabra di dare il via libera all'erogazione degli stipendi ai dipendenti dell'ANFE di Catania. In una nota, la Scilabra ha precisato che lo sblocco delle risorse servirà unicamente per provvedere al pagamento delle spese per il personale dipendente. Ma la mobilitazione degli operatori del settore non accenna a diminuire. A Palermo, i dipendenti del CEFOP, accompagnati dai poliziotti della Digos, si sono recati all'assessorata al lavoro e alla formazione, in corso calatafimi, per denunciare contro la mancata firma dei mandati da parte dell'assessore. I lavoratori, che da oltre sei mesi non percepiscono lo stipendio, hanno spiegato che alla base del mancato pagamento ci sarebbe la volontà da parte di qualche dirigente della formazione di trattenere le somme destinate ad alcuni enti per recuperare le integrazioni ritenute illegittime da due sentenzi del Tarre e della Corte dei Conti, che ha citato in giudizio ex assessori e dirigenti regionale. Una vertenza dunque ben lontana dal dirsi conclusa. Lunedì intanto partirà da Catania una nuova manifestazione unitaria di CGL, Cisle e Willi Scuola di tutti gli operatori del settore. La città e Tinea è stata scelta in quanto sede della gran parte degli enti revocati e perché rappresenta la città simbolo della vertenza della formazione professionale. In un comunicato i sindacati lamentano di accordi non rispettati, di mancanza di prospettive a medio e lungo termine e dell'assenza di un progetto complessivo del governo regionale che genera sofferenza nei lavoratori.